Dopo i primi interventi dell'Aggiunta regionale, anche il Consiglio regionale della Campania si adopera per risolvere la questione dei tagli nelle scuole. Il Presidente Leonardo ha convocato una seduta straordinaria dei capigruppo per parlare dell'argomento. La situazione è sicuramente molto complessa, la riforma si deve necessariamente fare, però c'è da dire che questa riforma ha un impatto davvero troppo forte per quelle che sono le esigenze della Regione Campania. Quindi, riferimento a quello che ha fatto oggi il Governo centrale ed il Governo regionale, sicuramente apprezzo lo sforzo che è stato fatto, anche se si tratta soltanto di provvedimenti tampone. È un assistenzialismo puro che non porta sicuramente ad una certezza lavorativa. Io a questo punto, in conferenza dei capigruppo, ho invitato sia l'assessore sia il Presidente della Commissione e mi auguro che, al di là di decidere o meno di fare una seduta monotematica oppure di trattare le argomentazioni in Commissione, io vorrei tanto che si adivenissi ad un incontro o confronto con l'assessore e chiedere all'assessore se è stato messo in campo tutto quanto quello che la norma dice, per esempio sul curriculum locale, regionale, in riferimento alle linee guide che dà il curriculum nazionale, se la programmazione è stata fatta e in che modo è stata fatta. Grazie.